Allora, è la notte del 6 e questo è lo sciame che oggi si è impiantato nell'Arnia. Eccolo qui. E volete vedere come è la prima notte di uno sciame naturale? E' questa, diciamo che essendo le mie sono abituate alla luce perché non sempre guardate la notte, infatti non è che si arrabbiano, però prevedisco lasciarle un po' tranquille. Comunque, eccole qui. E speriamo bene. Ci hanno fatto una bella sorpresa. L'hanno sciamato il 6 aprile. Uso la luce rossa perché non so se lo sapete ma non la vedono. Le mie ormai sono abituate anche con quella bianca, però all'inizio quella rossa non se ne accorgevano, quella bianca invece si arrabbiavano, poi piano piano. Però quando voglio vedere la regina che depone, con calma, uso quella rossa. Spero vi piaccia. E seguiremo insieme gli sviluppi. Ecco qua. Ciao. 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 Grazie.